Attenti a non far arrabbiare Aida Jespica. La bellissima showgirl venezuelana, reduce da un periodo non proprio orrose o almeno dal punto di vista sentimentale, è infatti volata a Las Vegas, dove, tra cene giapponesi e passeggiate, ha trovato anche il tempo di esercitarsi ad un poligono di tiro. A dimostrazione di ciò, Aida ha pubblicato un video su Instagram in cui appare in versione sparatutto, stupendo tutti i suoi follower. Le riviste si chiedono se la rabbia della Jespica non sia rivolta all'ex fidanzato Roger Jenkins, che l'ha tradita con la sua amica Simona Di Michele. La Jespica però, rispondendo a una fan che le ha chiesto se si stesse allenando per sparare a Roger e Simona, ha negato. Non vale la pena. Grazie a tutti.